Sedante Alighieri, fiorentino d'origine ma non di costumi, nazione non moribus, ha un pregio che si eleva su tutti gli altri, questo è che in quello che ha scritto si può trovare di tutto. Sedante ha un solo insopportabile difetto fra gli innumerevoli pregi, è sempre questo, in tutto quello che ha scritto si può trovare di tutto. Interrogavo un mio studente a proposito della bibliografia su Dante, mi ha risposto sono addolorato prof ma non esiste più, io allibito, ma che dici? E lui, legga qui sul libro, dice che la bibliografia su Dante è sterminata. Dante, dopo sette secoli dalla morte, potrebbe ancora rispondere a qualunque nostra richiesta, a qualsiasi nostra indagine o esigenza, sul suo e il nostro tempo. La sua commedia ne sa quante Wikipedia. In lui sono riposte le risposte, e sarebbe un difetto? Il problema qual è? È che bisogna sapergli rivolgere le giuste domande, arginare prudentemente il fiume in piena della curiosità che egli stesso ci accende dentro. Dante, troppo avanti. Così avanti che ancora oggi regge il nostro passo, anzi il più delle volte ci precede. Se lo incontrassi oggi, mi direbbe come quell'autista di autobus turistici che ci portava sempre in gita, quando provavo a dargli consigli sulla strada da seguire. Professorino, per favore, ho fatto più chilometri io in retromarcia che te in avanti. Sono fra gli allucinati sostenitori del fatto che Dante questo viaggio ultraterreno l'abbia affrontato e compiuto per davvero, in quella settimana santa dell'anno giubilare 1300. L'unico elemento che posso portare a prova di quanto sostengo è la chiarezza, la vividezza, la concretezza con cui quest'uomo racconta quanto gli sarebbe accaduto, quanto avrebbe visto, anzi, quanto gli è accaduto, quanto egli ha visto. Il mio raccontare quanto di concreto mi capita tutti i giorni neanche riesce ad avvicinarsi al 3D, alla tridimensionalità delle sue descrizioni. Se io nel mio quotidiano al di qua non riesco a smuovermi dalla bidimensionalità descrittiva, non riesco mai a superare i limiti di uno striminzito e cartesiano, piano, contrassegnato dai soli asse X e asse Y, egli come avrebbe potuto non aver davvero vissuto il suo straordinario al di là, visto che riesce a raccontarmelo, a raccontarcelo, in tre dimensioni, a tutto tondo, a tutto mondo, avvalendosi degli assi V versi, R rime, C cuore, salito fino al cielo che più della luce di Dio prende, sostiene di aver visto cose che ridire ne sa ne può chi di là su discende. Si diverte quindi ogni tanto anche a prenderci un po' in giro, ribadendo che sopra un qualcosa di ineffabile, inenarrabile, indicibile, di irripetibile, ci ha scritto migliaia e migliaia di versi. Insomma, sto viaggio lui l'ha fatto per davvero, ma è come se avesse visto tutto sognando e dopo il sogno gli fosse rimasta impressa la sola emozione, senza i particolari eppur in assenza di particolari. Eccoli qui, i cento canti ad imperitura memoria. La sua visione gli distilla, goccia a goccia, nel cuore il dolce che nacque da essa, come neve che da un ramo si dissigiglia al sole. Ed egli, grazie ad atomi di lettere e molecole di parole, ricristallizza il mondo e ogni epoca dell'uomo, riassumendoli nell'avventura di pochi giorni. All'altezza dei dodici anni mi regalarono la mia prima divina commedia integrale. Me la regalarono integrale per evitare che ingrassassi? Il dono mi raggiunse in occasione della somministrazione del sacramento della Cresima. Una divina commedia e un vocabolario serio di italiano per la Cresima. E io che credevo che tra familiari e parenti si fossero fatti passi in avanti in termini di sensibilità e fantasia rispetto ai ricchi doni della prima comunione o prima contusione, visto che già in quell'occasione sbatté il muso contro i regali ricevuti. Quattro anelli d'oro con gemma incastonata alla Don Vito Corleone. Tre svegli a ricordarmi ogni mattino di dover abbandonare il letto e fiondarmi a scuola. Sette immagini sacre da appendere per tutta casa, colpevoli ai miei occhi, di rubar posto alle pareti ai poster di Michelle Platini, Samantha Fox ed Edwige Fenech. Infine il classico cofanetto in legno contenente il compasso normale a punta e mina e il temibilissimo compasso a due punte in acciaio per usare il quale è necessario, il porto d'armi. E dopo il micidiale compasso a due punte donatomi alla comunione, per la serie Alpeggio non c'è mai fine, giunti alla pre-adolescenza della Cresima mi regalarono, come già detto, la prima Divina Commedia integrale. O forse me la regalarono integrale per garantirmi l'abbronzatura nelle spiagge per nudisti di Lido, manco a dirlo, di classe. Lido Ravennate come il Lido del Dante di cui fra poco, forse, sempre che non mi perda ancora, riusciremo a parlare. Una Divina Commedia è un vocabolario serio di italiano. Lo ripeto, ossessivamente, come un mantra, come un trauma. Quella prima Divina Commedia in tre volumi, curata da Natalino Sapegno, che profumo emanava da quella copertina grigia, rigida, telata. Quella copertina è diventata la mia copertina di Linus, il mio oggetto transizionale per trasumanare. La porto sempre con me, ancora oggi. È da lì che racconto Dante a chi ancora non lo conosce. È da lì che mi racconto Dante. È lì che in lui mi riconosco senza ancora conoscerlo per davvero. L'ingresso in terza liceo, lì al Borgo, lì al Campaccio, con sotto braccio il primo dei tre volumi dal poco rassicurante titolo Inferno, rappresentò per me l'inizio di un'autentica vita nuova. Innanzitutto, la Divina Commedia si intitola Comedia. La commedia, al contrario della tragedia, inizia male e finisce bene. Una scala ascendente dalle tenebre della dannazione al fulgore della beatitudine. La commedia poi si fa orgogliosa portatrice di una lingua alla portata di tutti. Talmente alla portata di tutti che tutti noi, ancora oggi, la parliamo. Giovanni Boccaccio, nel Trattatello Il Laude di Dante, parla di umiltà dello stilo, il quale nelle commedie di necessità si richiede. Ancora il Boccaccio, per giustificare la scelta di Dante di scriverla a questa comedia, precisa, veggendo in grandissima parte, qual fosse la vita degli uomini e quali fossero gli errori del vulgo, gli venne nell'animo un alto pensiero, per lo quale propose di mordere con gravissime pene i viziosi e con altissimi premili valorosi onorare e a sé perpetua gloria apparecchiare, la quale mirabilmente distinse in un volume il quale tutto intitolò Comedia. Ma questo titolo, Dante, a che altezza della Comedia l'Oconia? Inferno, canto 16, terzo girone, settimo cerchio, qui sono puniti i violenti contro Dio, la natura e l'arte, siamo all'alba del 26 marzo 1300. E per le note di questa Comedia le torti giuro, se le non sien di lunga grazia vote, che io vidi per quell'aere grosso e scuro venire notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro. La maravigliosa figura è quella di Gerione, custode del successivo cerchio dei fraudolenti. Ma a maravigliare noi, in questo frangente, è il sintagma questa Comedia. E ancora, Inferno, canto 21, il quale tratta delle pene nelle quali sono puniti coloro che commisero baratteria. Ed è il mattino sempre del 26 marzo dell'anno giubilare. Così di ponte in ponte, altro parlando, che la mia Comedia, cantar non cura, venimmo. Meglio richiamare l'attenzione su La mia Comedia che accennare agli ultimi versi del canto, dove i diavoli si schierano in plotone con la lingua tra i denti in attesa del poco nobile cenno acustico della loro ben poco elegante guida di nome Barbariccia. Quale cenno acustico? È tutto in questo capolavoro di endecasillabo finale. Edelli avea del cul fatto trombetta. Il plurilinguismo di Dante è un kaleidoscopio di esperienze comunicative, capaci di intrecciarsi alla rinfusa nei contesti più diversi. L'inferno è legittimamente abitato da culi che diventano trombette, ma anche abusivamente occupato da lievità liriche come quelle presenti nel racconto del fatale amore di Francesca per Paolo. Così come il paradiso raggiunge, come deve, vette e celse di poesia, ma senza rinunciare, qua e là al far grattar dov'è la rogna. Il plurilinguismo di Dante è vita, e ce ne siamo accorti tardi. Quando la vita ha davvero cominciato a far capolino fra le pagine della letteratura. Nelle epoche in cui ancora letteratura e vita vera dovevano completamente intrecciarsi e c'era ancora da codificarlo un volgare italiano degno da assurgere a lingua letteraria, Dante, proprio per colpa di questo suo plurilinguismo, ci rimise le penne. E se per la prosa si puntò sulla raffinatezza del boccaccio, per la poesia si andò dritti verso i toni monotoni, ma costantemente medio-alti, del petrarca. E Dante? Tagliato fuori dalla scelta, per la paradossale ragione di essere troppo vivo, troppo vivido, per una lingua letteraria cristallizzata. sempre a proposito del boccaccio, la comedia si fece per la prima volta anche divina, come Greta Garbo, proprio con Boccaccio, che così la aggettivò nel suo già citato trattatello Il Laude di Dante. Divina certo come attributo tecnico per i temi riguardanti il divino, ma divina anche come qualificativo dei vertici estetici raggiunti dal poema. Eranzi Jacopo e Piero, figlioli di Dante, messi a voler supplire la paterna opera, quando a Jacopo apparve una mirabile visione la quale gli mostrò dove fossero gli tredici canti, li quali alla Divina Commedia mancavano e da loro non saputi trovare. Divina Commedia, però, divenne ufficialmente il titolo a cui è abituato il nostro orecchio, solo alla metà del Cinquecento. Da quando Ludovico Dolce diede alle stampe un'edizione a Venezia imprimendole sopra il titolo arricchito dell'attributo del Boccaccio. Nell'epistola tredicesima, indirizzata a Can Grande della Scala, Dante, o chi per lui, visto che la paternità dello scritto non è poi così certa, ribadisce in latino il titolo dell'opera. Incipit Comedia, Dante Salagheri Inizia la Commedia di Dante di Alighiero. Nella terza cantica, Dante precisa per due volte che si tratti di un poema sacro. Paradiso, canto 25. Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra si chema fatto per più anni macro, vinca la crudeltà che fuormi serra del bello vile ovvio dormì agnello nemico ai lupi che li danno guerra con altra voce o mai con altro vello ritornerò poeta ed in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Paradiso, canto 23. Se mo sonasser tutte quelle lingue che polimnia con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue per aiutarmi al millesmo del vero non si verria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso conviene saltar lo sacrato poema come chi trova suo cammin reciso. Siamo ancora a parlare del titolo, cavolo ma la puntata prima di Cinque volge ormai al suo termine. L'arte, lo dice Dante deve aver misura e freno. Se io avessi, spettator più lungo spazio da chiacchierare io canterei in parte lo dolce ber che mai m'avrebbe sazio ma perché piene son tutte le carte ordite a questa puntatona prima non mi lascia più andar lo fren dell'arte.